carissimi amici del canale youtube dentro la notizia oggi 2 febbraio 2020 data palindroma il corriere della sera pubblica un'intervista di giuliana ferraino a george soros vediamo assieme di intravedere le possibili future mosse del finanziere per mantenere il dominio del mondo in mano all'elite nell'articolo si legge che a 89 anni e un patrimonio stimato di 8,3 miliardi di dollari soros non rinuncia ad essere in prima linea per combattere le tendenze autoritarie che minacciano la sopravvivenza delle società aperte è una delle due grandi sfide del nostro tempo sostiene sapendo di essere il nemico pubblico per eccellenza dei sovranisti e populisti di tutto il mondo verrebbe da chiedersi perché e soprattutto come mai un singolo uomo ufficialmente neanche eccessivamente troppo ricco sia il nemico pubblico per eccellenza dei sovranisti e populisti di tutto il mondo pare ovvio che dietro soros vi siano altre forze ben più potenti sono tre giorni che vorrei pubblicare un video molto esaustivo a riguardo ma pur avendolo modificato youtube continua a non concedermi la possibilità di inserire la pubblicità purtroppo visto che le donazioni sono poche dobbiamo per continuare a mettere a nudo le losche trame dell'elite contare anche sui proventi pubblicitari peraltro di molto ridotti dalla società di google ma torniamo a soros tra le dichiarazioni più interessanti sulle quali vorremmo ragionare oggi ed alcune veramente preoccupanti vi è la seguente esistono due tipi di governi il primo è quello di una società aperta dove i rappresentanti democraticamente eletti dovrebbero mettere gli interessi degli elettori davanti ai loro nel secondo totalmente diverso un governante usa il suo potere per rimanere al comando e trarre benefici personali e finanziari è un regime approfittatore e repressivo questa dichiarazione non corrisponde alla realtà dei fatti in effetti come spiego più nel dettaglio nel video forse scomodo che vorrei riuscire a pubblicare i rappresentanti democraticamente eletti non sempre riescono a mettere gli interessi degli elettori davanti ai loro qualcuno lo impedisce inoltre quando soros dice testualmente nel secondo totalmente diverso un governante usa il suo potere per rimanere al comando e trarre benefici personali e finanziari è un regime approfittatore e repressivo ecco come vedremo tra breve il finanziere inserisce in questa categoria coloro che si oppongono alle sue politiche pro immigrazione di massa alla promozione della droga dei movimenti lgbt alla distruzione della famiglia in sostanza si oppone a coloro che sono legati ai valori tradizionali e che attuano o perlomeno vorrebbero attuare politiche in favore dei popoli pur non trascurando i loro interessi che ovviamente sono in contrasto con la sua agenda o meglio l'agenda delle elite passiamo ora a riflettere su un'altra dichiarazione di soros l'europa è minacciata da due pericoli la sopravvivenza della società aperta e il cambiamento climatico che potrebbe distruggere la civiltà ma va verso una direzione migliore il climate change è diventato la priorità della nuova commissione ue e il primo desiderio dei cittadini oggi la ue ha intrapreso un ruolo guida per combattere certo per società aperta al finanziere ungherese intende una società no borders senza confini con la possibilità di spostare enormi masse di persone e di concentrarle tutte in determinati luoghi un po come avvenne con la torre di babele dove il diabolico nimrod sfidò dio e divenne così il primo massone secondo alcune teorie cospirative ma che tutte le elite del mondo siano unite nel combattere i cambiamenti climatici almeno così vorrebbero farci credere quando in realtà sono da loro causati beh questo è un altro aspetto meritevole della nostra massima attenzione saoros prosegue nel suo ragionamento dalla fine dell'anno abbiamo visto un'accelerazione di eventi niente male ecco perché ho speranza anche se sarebbe più facile disperarsi faccio due esempi il fenomeno delle sardine un movimento dal basso che ha davvero fatto arrabbiare come si chiama ah sì salvini e poi un fenomeno dall'alto i sindaci sono diventati molto attivi in tutto il mondo ma in particolare in europa si sono impegnati nel cambiamento climatico nelle migrazioni interne e in altre questioni a parte il fatto che la strategia di fingersi di dimenticarsi il nome di uno dei suoi principali avversari salvini nell'intento di sminuirlo è abbastanza puerile soprattutto se paragonata all'importanza che soros continua a dare alle sardine è evidente che gli stanno a cuore ed è altrettanto evidente che se finanzia movimenti che difende con meno fervore è assai probabile che i pesciolini italiani debbano la loro origine e ragion d'essere proprio alla volontà e ai mezzi del finanziere ma concentriamoci su un potenziale pericolo dalle parole del cosiddetto filantropo emerge che nelle sue intenzioni vi è il fondere dei movimenti dal basso come le sardine con dei movimenti dall'alto facendo capo ai sindaci non sottovalutiamo questa sua strategia manteniamo il focus su questi due aspetti perché soros potrebbe avere in serbo per noi delle amare sorprese che tra l'altro ha già iniziato a porre in atto e se siamo osservatori attenti lo vediamo chiaramente d'altra parte lui stesso lo conferma con la seguente affermazione se queste iniziative si svilupperanno combinando le spinte dal basso con quelle dall'alto potrà diventare un movimento molto importante a favore dell'europa e della società aperta c'è di che preoccuparsi non vorremmo mai sottovalutare né quest'uomo né chi gli sta dietro ma le cose interessanti non finiscono qui soros parla di migrazioni interne all'unione europea quasi come se fossero volute e chiaramente dice che la germania ne ha beneficiato a danno dell'italia in realtà sono l'elite di acquisgrana ad averne beneficiato non i popoli comunque questo è quanto dice è proprio la mancanza di lavoro a causare le migrazioni interne chi non trova un'occupazione nel suo paese la cerca in germania che perciò beneficia di questa situazione la germania beneficia dell'immigrazione al contrario l'italia soffre per l'immigrazione dell'elite i più qualificati e competenti vanno in germania a londra in altre parti del mondo qui soros ammette una realtà negata da alcuni suoi compari italici in italia manca il lavoro altro che avere bisogno di nuove risorse umane poi usa il termine elite in modo da depistare l'attenzione da se stesso e la applica in senso totalmente positivo verso i nostri migliori giovani diplomati e laureati questi sì vere risorse di cui l'italia è costretta a privarsi per arricchire la germania ripeto più correttamente bisognerebbe dire che a beneficiarne è l'elite di acquisgrana non il popolo tedesco poi soros parla della sua grande sconfitta pur non ammettendolo non l'unica per la verità la brexit ecco cosa dice brexit è un danno sia per l'europa che per il regno unito il futuro resta molto incerto il premier boris johnson vuole allentare in legami mentre l'unione europea vorrebbe mantenerli più stretti è una situazione conflittuale di cui è difficile prevedere l'evoluzione perché dipende da decisioni ancora da prendere non è così ho motivo di credere che certe decisioni siano già prese e portino la gran bretagna sempre più a braccetto con gli stati uniti e credo che anche soros ne sia conoscenza approfondiremo il discorso più avanti se sarà di vostro interesse ovviamente il finanziere non poteva far mancare il suo attacco a personaggi politici che si oppongono alla sua agenda dopo salvini è il turno di trump queste sono le sue feroci parole ho visto trump parlare al forum di davos in tv mi è sembrato molto convincente ovviamente ha fornito informazioni false ma devo ammettere che bravo ha molto talento a convincere la gente ma è un truffatore e un narcisista sarà l'eletto si è preparato molto bene facebook che è stata molto strumentale nella sua elezione nel 2016 può ancora pubblicare le dichiarazioni dei candidati senza essere legalmente responsabile se non corrispondono alla verità perché la legge non è cambiata e non cambierà finché trump sarà al potere perciò facebook rappresenta un grande aiuto per trump che sa usare i social media e li sfrutta il problema è che per zuckerberg il principio guida è massimizzare i profitti quindi soros dice che trump è bravo a convincere la gente peccato che sia un truffatore ovviamente il suo pensiero il pensiero di un uomo che si è arricchito speculando nel 1992 sia sulla lira che sulla sterlina mettendo in ginocchio due paesi che stranamente poi uno è uscito da lui mentre l'altro l'italia secondo farage è il prossimo che a breve uscirà poi il finanziere apre un altro capitolo preoccupante che non dovremmo sottovalutare perché ha a che fare con la libertà di espressione il magnate dice testualmente lo ripeto facebook può ancora pubblicare le dichiarazioni dei candidati senza essere legalmente responsabile se non corrispondono alla verità ma cosa vorrebbe soros che a decidere cosa è vero da cosa è falso sia un social media vorrebbe limitare la libertà di opinione il primo passo per privarci di altre libertà la censura tra l'altro già in atto grazie ai suoi accoliti della commissione europea la rete ha permesso di ampliare il grado di libertà delle persone grazie a internet chiunque può accedere ad informazioni di ogni sorta poi sarà cura e premura del singolo individuo selezionare le informazioni non vorremmo mai che siano altri a farlo per noi che siano altri a decidere per noi manteniamo una grande attenzione anche su questo aspetto ora soros in un delirio di onnipotenza si erge in una posizione che non gli spetta è lui che decide chi sono i buoni e chi i cattivi ovviamente il finanziere si ritiene il capo dei buoni attenzione Trump non è un santo solo non sono d'accordo sui criteri che usa il filantropo per attestare la propria bontà e la cattiveria altrui ecco le sue parole l'unico vero ostacolo alla rielezione di Trump è il suo comportamento e la reazione del pubblico il numero di quelli che credono veramente in lui si sta riducendo a causa del suo cattivo comportamento le prospettive non sono buone ma conto su Trump e sulla sua capacità di deludere sempre più elettori passiamo ad un altro avversario che soros vuole eliminare cioè il premier ungherese che da anni gli tiene testa con successo ecco cosa dice di lui Orban usa il suo potere solo per conservare il suo posto all'infinito ora c'è una rivolta contro di lui i cittadini sono contro Orban ma lui resta al suo posto vedete quanto il finanziere sia puerile il popolo è contro Salvini è contro Trump è contro Orban e ovviamente non poteva mancare di essere contro Putin di cui dice è al potere ancora da più tempo e ora ha disegnato un nuovo sistema per conservarlo più a lungo una volta eletto puoi essere senza scrupoli ed egoista e usare qualsiasi sistema anche molto doloroso per la gente per mantenere il potere vedete nel famoso video che spero di riuscire a pubblicare se YouTube mi concederà la pubblicità si fa ben capire che spesso certe decisioni sono altri poteri a prenderle e Soros non può non saperlo anzi infine Giuliana Ferraino domanda in Italia molti la ricordano ancora come l'uomo che nel 1992 ha scommesso contro la lira e la sterlina costringendo le due valute a una pesante svalutazione e all'uscita dal sistema monetario europeo si è mai pentito di averlo fatto ha altri rimpianti nella sua lunga storia che ha attraversato crisi boom e rivoluzioni nessun rimpianto ho semplicemente anticipato gli eventi perciò lo considero un mio successo ho sempre agito nel rispetto delle regole se non considerassi un comportamento appropriato non lo difenderei mai un suo successo capite? Soros considera un suo successo aver costretto con le sue speculazioni il governo italiano a mettere le mani nelle tasche dei cittadini per ultimo alla domanda perché è tanto odiato lui risponde le mie critiche però fanno male a molte persone ricche e potenti perciò è naturale che mi vogliono distruggere perché colpisco i loro interessi e mi attaccano non solo i ricchi ma in misura sempre maggiore anche i politici chissà perché sarà forse che con i suoi finanziamenti vuole destabilizzare i paesi di tutto il mondo? Carissimi amici del canale YouTube dentro la notizia rimanete sintonizzati su questo canale e spero anche grazie al vostro aiuto di poter sviscerare a fondo queste tematiche a beneficio del popolo se lo desiderate potete sostenerci con una donazione che ci permetta di continuare a smascherare le losche trame dell'elite ai danni dei popoli un abbraccio dal vostro Roby di poter sviscerare di poter sviscerare di poter sviscerare